José Mujica, ecco il presidente dell'Uruguay dal 2010 al 2015, una persona interessantissima, un uomo che va in lambretta, che come Bacchina Blusa aveva il suo maggiolino vecchio, che vive in campagna nella sua vecchia fattoria, che ha sposato Lucia il suo grande amore della vita, un presidente underground che ha sempre dato i nove decimi della sua paga presidenziale a chi aveva tanto bisogno. Io ho avuto modo di incontrarlo in Uruguay e anche a Genova. E' un esempio. Dicime, tu elezione di fare così, il tuo corazone, ha sempre fatto questo in tua vita? E' un processo. E' un processo. E' un processo. E' un processo, sì. E' un guerrista nel corazone? E' un suo corazone? E' un processo, sì. E' un processo, sempre. Cosa io? Sì, sì. E come potete fare tutto questo? E con quale forza hai avuto il tuo successo, il tuo completamento dei tuoi sogni? No, è una evoluzione di una larga luce sociale, passiamo per una dittatura, siamo presi, e molti anni di soledà, molta forza, e molti anni di pensare, e poi entra in un cammino dove... Questo ti sale nel corazone e il tuo vita... Puoi ofrecere una cosa? No... Recien tommo! Recien tommo! Ti piace il vino italiano? Sì! Facciamo una foto con la mujer! Cialista! Boare! Grazie! O 그런 ancora ci ho! Si fatura canta! Un essere Meanwhile! E l'uso di tempo! Avversi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.